è uscito da pochissimo il nuovo crash bandicoot ovvero crash bandicoot 4 ragazzi io ho iniziato la serie e mi ci sono anche scontrato malissimo lo vedrete sia sul primo sul secondo canale oggi ma questo non c'entra niente con il tema delle news che stiamo trattando beh allora posso sicuramente dirvi che è un gran gioco ma proprio poco ma sicuro è molto difficile anche più di quanto pensassi forse troppo ma non voglio esagerare con i giudizi sul gioco stesso il punto che voglio riferirvi è un altro e mi interesserebbe parlare anche un pochettino di che cosa nasconde questo tipo di notizie intendo di che cosa significano questo tipo di notizie e la notizia è che la nostalgia vince sul nuovo perché le vendite di crash bandicoot 4 a lancio sono inferiori a quelle della insane trilogy durante la settimana di uscita addirittura l'ottanta per cento in meno di quanto fece crash bandicoot insane trilogy all'epoca della sua settimana di esordio però ora attenzione ragazzi sì legato all'immaginario playstation quindi gran parte più dell'ottanta per cento delle vendite è stato su ps4 quindi potremmo dire che non è andato bene come il precedente secondo me non è così semplice da giudicare la cosa tanto per cominciare non abbiamo i numeri definitivi ovvero di tutte le vendite che ci saranno anche in futuro perché per giudicare un prodotto come è andato un prodotto intendo beh bisognerebbe avere un pochettino più dati e questi sono soltanto per la settimana di lancio sono comunque significativi però per fare un certo tipo di discorsetto secondo me ovvero di quanto gioca la nostalgia di quanto gioca l'immaginario dei videogiochi di una volta che vengono riproposti a un ritmo sempre crescente dal mondo videoludico di oggi ci sono remaster e remake in continuazione molti criticano questa cosa io non sono mai stato uno che invece ci sia scagliato troppo contro intanto perché sarei un ipocrita perché moltissime di queste remaster e remake io me li sono goduti un granché ma a dir la verità sono anche un buon modo per esplorare il mercato paradossalmente uno potrebbe dire che ripresentando un prodotto che c'è già stato in realtà vuoi andare sul sicuro e monetizzare e basta vendendo cose che già sai che venderanno bene questo è sicuramente vero però considerate che c'è anche un'altra possibilità diciamo un altro punto di vista secondo me che ho sempre trovato abbastanza valido ovvero i giochi al giorno d'oggi costano molto più di quanto costassero all'epoca non tanto per il consumatore in parte anche se in certi contesti non in tutti ma costano tantissimo per essere sviluppati specialmente i tripla quelli un pochettino più pomposi hanno dei budget di realizzazione che sono veramente devastanti ragazzi e è solo un problema in molti casi tanto che è perfettamente logico che in alcuni casi si punta sul si punti sul diciamo già venduto su qualcosa già collaudato non parlo soltanto di brand si sta parlando di crash quindi di un gioco che esiste da un sacco di tempo che ha già colpito l'immaginazione sto parlando anche di realizzare giochi che usano una formula ben stabilizzata diciamo nel mercato a volte va bene a volte va male il caso di ubisoft per esempio ci dice negli ultimi anni che fare sempre lo stesso gioco forse sono un po forse sono un po esagerato in questo però spero che capiate che cosa intendo fare sempre lo stesso gioco tra virgolette a volte non paga e le persone si stufano però insomma è chiaro che si va in questa direzione però però probabilmente è anche un modo per sondare il mercato c'è bisogno di guadagnare c'è bisogno di rientrare di investimenti sempre maggiori e quindi come succede molte volte in questo caso magari è stato un ok sarebbe bello riportare crash noi sappiamo che magari una remaster che ton non è una remaster è un remake quello di della della trilogia di insane trilogy venderà un sacco però magari in mente avevano di farne uno nuovo di crash e volevano iniziare con la insane trilogy per capire se il mercato ancora apprezzava questo tipo di giochi e non solo dal fattore nostalgia si è visto che ha venduto un sacco e quindi hanno pensato che il mercato sarebbe stato pronto per un crash bandicoat 4 e alla fine è arrivato ed è pure fighissimo ragazzi quindi non va sempre così bene sicuramente il discorso è incompleto e ci stiamo basando su supposizioni noi non sappiamo veramente che cosa pensino le aziende però dato che mi ci diverto con questi prodotti non me la sento di criticare più di tanto e magari sto cercando di vederci anche una possibilità per il bene del mercato videoludico ovvero il sondare prima e poi pro proporre dei prodotti nuovi che possano incontrare il favore del pubblico a volte radicalmente diversi pensiamo che cosa è successo con resident evil 2 remake d'accordo ok su che cosa è successo con final fantasy 7 remake che sono radicalmente diversi dai dai giochi originali non sempre così non sempre va così bene e non sempre sono cose finalizzate a dare nuova linfa a un brand per poterlo continuare ovviamente a volte è pura speculazione lo sappiamo che può essere tranquillamente così però mi è sembrato un discorso simpatico da fare e vorrei sapere un pochettino che cosa ne pensate voi ragazzi pensate che questi remake e queste remaster continue siano solo un modo per guadagnare oppure pensate come penso io che ci possa essere anche una volontà di spingersi oltre e però nel farlo mettersi un pochettino un salvagente fatemi sapere un pochettino che cosa ne pensate voi ragazzi d'accordo è tutto per questo video vi aspetto nella sezione commenti perché credo che sia un discorso interessante da fare che magari potremmo approfondire anche un'altra volta in un qualcosa che sia più di un video di pochi minuti e niente sono molto curioso di leggere che cosa ne pensate direi quindi che per questo video è tutto grazie mille di averlo visto ci vediamo al prossimo video delle mini news o a tanti altri contenuti che ci sono qui sul primo sul secondo canale e come sempre ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su twitch e qui sotto in descrizione ovviamente lasciate un like a questo video se vi è piaciuto ma qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come instagram e telegram tutti i link per supportare il canale anche link alla playlist con tutti i video di mini news d'accordo ragazzi a presto ciao ciao ciao